guida antitruffa per riconoscere le truffe finanziarie nel web benvenuti nella prima lezione di questo mini corso gratuito qui per i social per imparare a riconoscere le truffe finanziarie ed evitare di rimanere senza una lira perché ce li rubano in qualche scam di quelli clamorosi e allora in questa prima lezione andiamo a vedere esattamente la prima trappola dove dietro si nasconde una truffa praticamente certa attenzione a chi vi promette rendimenti elevati da raggiungere magari in poco tempo e soprattutto in maniera certa chi vi promette rendimenti alti e certi sta mentendo c'è qualcosa che non va non vi fidate i rendimenti per definizione non sono mai certi non possono essere certi per ogni rendimento atteso c'è un rischio da sostenere quando sono certi c'è sempre qualcosa che non va a meno che non stiamo parlando di rendimenti dati da investimenti privi di rischio tra virgolette in quel caso il rendimento però non può essere elevato ma deve essere quello dato dal mercato quindi oggi possiamo prendere i titoli di stato tedeschi considerati come privi di rischio e lì il tasso di rendimento può essere intorno al 3% quindi oggi se uno vi dovesse promettere un rendimento certo siamo sul 3% annuo non di più e non di meno questo è la prima cosa a cui dovete stare attenti ogni volta che il rendimento è superiore al 3% in questo momento storico chiaramente allora c'è sempre dietro un rischio non può esserci nulla di certo